Ed eccoci, Radio in De Quadre, come sempre, pillole di tecnologia, il nostro format in cui intervistiamo i dottorandi del Pony Tecnico. Do il benvenuto ad Alessandro De Zanet, benvenuto. Grazie, Gabriele. Appunto, questo è il nostro format dove sei venuto qui per essere intervistato. Ti chiedo, sei un po' emozionato? Un po' sì, la prima volta in radio, quindi è un'esperienza nuova. Perfetto, spero di metterti un po' a tuo agio, fai come fosse a casa tua, ovviamente. Grazie, grazie a te a De Quadre per l'ospitalità. Perfetto, introduco brevemente la tua ricerca e poi me ne parli liberamente. Allora, il titolo della tua ricerca è Trattamenti superficiali e giunzioni di materiali ceramici e compositi a matrice ceramica. Ok, mi vuoi parlare un po', mi vuoi fare una piccola introduzione di questo? Sì, sì, diciamo che il titolo di per sé questo è molto lungo e strutturato. Quello di cui mi occupo alla fine sono giunzioni di alte temperature. Per fare questo bisogna avere un focus sia sulla selezione del materiale e poi anche sulla preparazione superficiale. È un po' come quando devi riverniciare le ringhiere, allora devi preparare la superficie per la stesura, possibilmente avviene anche per le giunzioni. Quindi sono coinvolti in diversi progetti. Il nostro target sono poi appunto le alte temperature, quindi temperature intorno a quelle di mille gradi, un po' più alte del forno di casa. Esatto, da esterno, io sono ingegnere gestionale, quindi un mondo un po' lontano da questo. Ti chiedo quali sono i problemi di lavorare a queste alte temperature? In generale i materiali comunque hanno una risposta diversa, quindi per esempio non sono materiali di uso comune, che può essere l'alluminio, a mille gradi non è utilizzabile visto che ha 660 fonde, e anche i materiali che sono utilizzabili perdono la resistenza, per esempio rispetto al carico sostenuto, man mano che la temperatura aumenta. Quindi per le giunzioni la parte complicata è poi dare materiali che riescano a sostenere delle condizioni per diverso tempo, quindi questioni di servizio in un ambiente molto corrosivo, appunto esasperato dalle alte temperature. Ok, so che tra l'altro stai lavorando ad un progetto europeo, il progetto di Sam Wave, me ne vuoi parlare un po'? Sì dunque, Sam Wave appunto ha come target le industrie di alto impatto energetico come le acciaierie e l'obiettivo è quello di proporre nuovi materiali che possano sostenere condizioni di questo tipo e per un tempo più protratto rispetto allo standard attuale. Per farlo però occorre avere anche giunzioni che siano in grado, visto che parliamo di tubi, giunzioni che siano in grado di mantenere queste proprietà per un tempo appunto pari a quello dei materiali utilizzati. Il nostro obiettivo quindi in questo progetto è quello di lavorare con materiali che possono essere utilizzati in questo ambito, come ad esempio vetri o leghe brasanti appunto che possono soddisfare questi ingredienti. Il vetro diciamo non è uno dei materiali a cui si pensa, esatto. Sì assolutamente, si pensa a una bottiglia di vetro, penso che se cade è la prima che si rompe, è molto fragile, invece è molto interessante sapere che ha molte applicazioni. Si può vedere un po' come una colla ad alta temperatura, quindi ha proprio questa peculiarità. Insomma un po' come dei vetrai di Murano, insomma, che utilizzano queste alte temperature per modellare il vetro. Quindi non lo modelli ma appunto lo deposito, usi come colla, come rivestimento anche in alcuni casi per proteggere il materiale sottostante. Perfetto, allora intanto ti chiedo anche se ti stai trovando bene qua al Politecnico e perché hai scelto il dottorato. Allora, mi sto trovando bene, adesso sono verso la fine, questo ormai è il mio ultimo anno, anzi in pochi mesi dovevo poi consegnare la tesi, quindi il tempo stringe. Cioè comunque quello che mi ha poi portato a scegliere il dottorato era la mia tesi di magistrale e mi è piaciuto molto lavorare appunto su questi tipi di applicazioni, in quel caso era un progetto sempre europeo, legato al nucleare, per creare giunzioni resistenti in casi di incidente, come nel caso di Fukushima. Mi ha piaciuto tanto la sfida e la comprensità che sta dietro questo tipo di applicazioni che mi sono innamorato e comunque ho continuato col dottorato. Assolutamente, assolutamente. E' molto interessante questo tema, lo diceva anche il nostro rettore, le sfide che ci dobbiamo porre tutti i giorni per migliorare quello che viviamo, dove viviamo. Questa era la prima parte del tuo intervento, io ti ringrazio, ci fermiamo per un piccolissimo break e poi torniamo qui. Ed eccoci tornati, sempre qui con Alessandro De Zanet, uno dei nostri ospiti, dei dottorandi che intervistiamo in pillole di tecnologia, il nostro format su Radio in De Quadrant. C'eravamo lasciati parlando di sfide e quindi ti chiedo, quali saranno le sfide del futuro e quali vorrai battere, quali vorrai sconfiggere queste sfide che vorrai superare? Dunque, come ti stavo introducendo prima, ci sono questi progetti che sono comunque molto d'avanguardia, perché questi materiali sono al momento molto costosi e difficili da utilizzare. parlo di composito di matrice ceramica. Sono materiali che hanno un costo molto elevato, sono in certi casi difficili da realizzare, soprattutto se parliamo di sfide di ambienti molto aggressivi, quindi vogliamo una qualità molto elevata. E di conseguenza, progetti come quello di SEMWAVE puntano a ridurre poi il costo. Cioè adesso noi siamo sulla parte di giunzione, che poi un po' è necessaria, ma la vera sfida poi è avere materiali che siano sostenibili dal punto di vista economico e ambientale. Esatto, da questo punto di vista ti chiedo, come si crea questo tipo di materiale? Abbiamo parlato di materiali che devono resistere alle temperature e quindi penso che vengano trovati su queste altre temperature necessiti di macchine speciali, forni speciali per testarli, immagino. La prima sfida è proprio produrli, perché comunque sono materiali che sono fatti da fibre lunghe a cui viene depositata, in materiale ceramico, viene depositata una interfase e poi una matrice. Quindi comunque parliamo di un processo abbastanza lungo ed energivoro. E al momento tra l'altro buona parte delle fibre viene dal Giappone, quindi c'è anche un discorso poi di supply chain e di know-how. Sì, sì, sì. Quindi l'obiettivo adesso su cui c'è il focus è quello di ridurre il costo di questi processi aumentando l'efficienza. Perché tu comunque parti da fibre in cui vai a depositare per via di vapori, quindi di reazioni allo stato gassoso, che vanno man mano a consolidare il tuo materiale. Ed è un processo comunque lungo e costoso dal punto di vista energetico. Assolutamente, quello che parlavamo un po' di scaling up, no? Esatto. Che può essere tutto quello che riguarda l'economia, quindi portare avanti comunque progetti molto costosi. Un altro dei temi è appunto questo, anche perché sarebbe diciamo un po' fine a se stesso trovare un materiale del genere, lavorarlo, trovare che funziona, però poi non poterlo realizzare, no? Sì, appunto. Il discorso economico poi quando vai verso l'applicazione reale poi diventa critico. Soprattutto adesso comunque in protezione energetica questi materiali hanno un grande potenziale potendo essere usati ad alte temperature, quindi puoi usare anche, andare a temperature maggiori e aumentare l'efficienza in alcuni casi della conversione. Però tuttavia ad oggi hanno un costo troppo alto, quindi l'obiettivo di ScentWave è tramite un efficientamento del processo di manifattura del materiale andare a rendere questi materiali appetibili per l'industria, quindi da un lato dimostrare che sono appunto validi e dall'altro andare anche a proporre un processo che sia economicamente sostenibile. Che poi diciamo è la base, bisogna sempre attrarre investitori e quindi bisogna anche convincerli che quello che gli si propone sarà profittevole. Esatto, anche perché effettivamente se no non riusciamo a fare il salto poi della ricerca alla parte di uso reale. Secondo te quanto ci vorrà? Hai in testa una stima di tempo in cui reputi che appunto si possa raggiungere questa effettiva economicità intesa come valore di un prodotto utilizzabile e effettivamente offribile al mercato? È dura, nel senso che in fondo questi prodotti già esistono, questi materiali vengono già usati ma in ambiti molto particolari come quello dell'aerospace e quindi parliamo comunque di un ambito in cui non ci sono grossi problemi di investimento. No, assolutamente, dove... Esatto. Convincere poi invece la parte legata al convincere e diffondere poi anche la tecnologia perché tra l'altro uno dei problemi è che ci sono pochi a lavorarci quindi è anche... Un po' di nicchia. Esatto, il know-how comunque va anche poi molto più fuori. Molto più, assolutamente. Meno di dieci anni credo che siano... Va bene, io ti ringrazio, spero che tu sia uno degli innovatori del futuro, te lo auguro quantomeno. Questo era Pilleri Tecnologia, il nostro format dove intervistiamo i dottorandi, ti ringrazio. Grazie Gabriele. E noi ci prendiamo un piccolo break.